In questa puntata alluvioni allargata la platea per la richiesta dei danni via libera del consiglio per l'educazione all'affettività. In un libro la storia della lotta contro i fanghi rossi. Fino a un massimo di 3.000 euro a nucleo familiare anche per i beni mobili sarà il contributo straordinario forfettario a sostegno delle famiglie che hanno subito danni a causa delle alluvioni del novembre 2023. Questa legge è molto attesa peraltro dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno compito molte province della regione toscana va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000 a qualcosa meno ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una varia azione alla legge che avevamo approvato a dicembre ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente ma che è già qualcosa di importante. A fianco a questo i 12 milioni per le imprese dove la regione si fa carico di tutta la parte struttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA che stanno seguendo le domande. Quindi da questo punto di vista la regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. Abbiamo trovato un'intesa, è stato un lavoro importante che abbiamo fatto all'interno della seconda commissione, tutti preoccupati del fatto che per quanto riguarda i beni immobili fossero arrivati poco meno di 6 mila domande. Pensiamo che dai dati di IRPET sono circa 23 mila le famiglie colpite dall'alluvione che potevano avere interesse a far domande, a richiedere un risarcimento e soltanto poco meno di 6 mila sono le domande che sono arrivate all'attenzione della regione toscana. Quindi dopo un'indagine abbiamo deciso di aprire anche ai beni immobili e a tutte quelle altre domande che altrettanto erano circa 6 mila che sono arrivate su richieste di risarcimento danni. Io però ho fatto un focus su un punto fondamentale perché il Partito Democratico diceva bene dalla platea da 6 mila si amplierà una platea di 12 mila. Ecco non è proprio così perché gli uffici ci hanno fatto capire e aspettiamo il report definitivo che in verità molte famiglie hanno provato facendo domanda sia per beni immobili e per beni immobili. Quindi le famiglie diciamo coinvolte ci saranno circa 7500 in tutto. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. Le risposte sono in primis che sicuramente la compilazione delle domande e quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento è un iter che ancora oggi è complicato e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare più possibile la richiesta di risarcimento anche con i fondi che ulteriormente la regione metterà a disposizione e con i fondi del governo. Ma ci consente la modifica di misurare meglio anche dopo il completamento della diluviazione dei danni, il contributo che dalle risorse regionali va soprattutto alle famiglie e di disciplinare meglio la possibilità di accogliere altri finanziamenti per quanto riguarda invece le imprese. Abbiamo già la disponibilità della Camera di Commercio di Firenze per esempio che dovrebbe aggiungere alle risorse, sono 12 milioni per le imprese, altre risorse proprie per essere più pronti a rispondere alle esigenze di liquidità e ai primi investimenti senza sovrapporli a quelli che auspichiamo arrivino dallo Stato. È stata fatta una valutazione proprio sulle spese ammissibili in maniera tale da poter introdurre all'interno di quelle categorie altre spese che altrimenti non sono rimborsabili nel classico modo che ha la protezione civile di affrontare queste situazioni. Voto favorevole perché allarghiamo la platea di coloro che possono accedere ai ristori, quindi non soltanto chi ha subito danni all'abitazione principale ma anche chi l'ha subita alle pertinenze, ai garage, alle auto, alle moto, ai giardini che ovviamente sono persone che hanno subito danni al pari degli altri, sicuramente più grave chi l'ha subita all'abitazione principale ma se una famiglia abitava al primo piano di una palazzina alluvionata, non ha subito danni in casa ma ha perso tutto quello che aveva in garage, magari ha perso due automobili e una moto credo sia doveroso ristorare anche loro. Quindi un voto favorevole e la speranza però che questi ristori possano essere erogati quanto prima. Complimenti alla Presidente della Commissione, alla Commissione, complimenti alla Giunta. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini, largando il Platon, dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutti le risorse che sono state messe a disposizione possono essere erogate. Voglio ricordare che le province sono passate da 5 a 7, quindi Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno. A mio avviso, essendoci le risorse, più si riesce ad allargare il Platon, più persone riescono a fare la domanda, è il miglior servizio che avremo leso alla nostra comunità. Certo, si estende e si amplia la platea dei soggetti e dei beni risarcibili perché le domande, ci dicono gli uffici, sono inferiori rispetto a quello che si preventivava. Questo non vuol dire che l'alluvione sia stata meno disastrosa, semmai c'è da interrogarsi se la Regione sia stata in grado, anziché di fare polemica continua col Governo, di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori, a partire dalle famiglie, per finire alle imprese. Cerchiamo in tutti i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale, ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. Via Libera del Consiglio regionale ha la proposta di legge per chiedere al Parlamento di introdurre l'educazione all'affettività nelle scuole. In Parlamento ci sono almeno tre o quattro disegni di legge sull'introduzione dell'educazione all'affettività e la sessualità nelle scuole, sono tutti arenati e la discussione si è fermata. Il Governo ha disposto, anche in seguito agli eventi tragici che sono avvenuti nel nostro Paese, di violenza sulle donne e non solo di abusi di vario tipo, ha deciso di investire molte risorse in un progetto occasionale. Tra l'altro abbiamo preso un progetto che è affidato alle scuole e che consente un'adesione volontaria ai ragazzi. Noi crediamo che non sia un messaggio educativo. Se un tema è davvero priorità deve stare là dove stanno le cose fondamentali per la vita dei cittadini, nelle leggi dello Stato. Per questo dal Consiglio della Toscana è partita, è stata approvata ieri, una proposta di legge al Parlamento che è un segnale di attenzione e che propone una modifica molto semplice e pragmatica della legge 92 che istituisce l'ora di educazione civica che nel disegno originario di molti che hanno fatto proposte di legge si chiamava educazione alla cittadinanza. Ecco, di inserire tra gli argomenti di quell'ora di lezione anche questi temi, i temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità. Partiamo dal presupposto che la scuola dovrebbe educare, dovrebbe educare a tutto tondo, quindi dovrebbe anche sensibilizzare i ragazzi rispetto a temi importanti come la diversità e la lotta alla violenza. Questa legge entra a gamba tesa invece dal nostro punto di vista su una sfera che è una sfera che ricade per lo più in quelle che sono anche l'ambito familiare. Io rivendico come genitore la mia libertà di educare mio figlio nel modo che ritengo opportuno, sensibilizzarlo al rispetto di quelli che sono principi e diritti fondamentali della persona, rifiuto che questo possa farlo la scuola. Anche perché se l'educazione sessuale è quella che ad esempio è stata propinata all'interno di un incontro dal comune di Pontassieve dove, come dire, si invitano gli adolescenti addirittura ad essere sensibilizzati sugli scambi di coppia, voi capite che siamo vicini a una strumentalizzazione su un tema che al contrario non dovrebbe vedere strumentalizzazioni. È molto giusto. Io per primo ho portato nel Consiglio regionale della Toscana una mozione due anni fa che andava in questa direzione. È evidente che la crescita di una persona avviene sotto il punto di vista anche umano, relazionale e soprattutto affettivo. E come tale è bene che la scuola sia il luogo dove si affronta e dove ci si confronta rispetto alla crescita emozionale, affettiva, anche sessuale e soprattutto dove i ragazzi e le ragazze possano confrontarsi con personale competente nella conoscenza. Dalla conoscenza nasce l'approfondimento di temi molto importanti e come tale credo che tutta la dimensione delle relazioni, dell'affettività, del piacere e tutta la dimensione umana della persona abbia un valore altissimo al pari di quello nozionistico o quello culturale. Noi abbiamo votato contro per diversi aspetti. Intanto perché è una proposta che va a modificare una legge del 2019 che ha introdotto l'educazione civica in tutte le nostre scuole. Poi si pensava che sarebbe stato opportuno fare un tavolo anche regionale con le istituzioni scolastiche, l'USR, la regione, le associazioni che si occupano di queste problematiche per arrivare, e gli esperti ovviamente, perché occorrono gli esperti vista la materia così delicata che tratta questa proposta di legge. Da questo tavolo potevano uscire delle proposte da portare in alcune scuole e vedere poi che cosa succedeva e poi farne una proposta di legge. Non dobbiamo aver fretta proprio perché, come vi ho detto, la materia è molto delicata e farla insegnare agli insegnanti di educazione civica, che spesso sono dei tecnici, non ci sembra opportuno. Quindi io spero che vada avanti il discorso di educazione alle relazioni che ha proposto il Ministro. Ha anche stanziato 15 milioni di euro. vada avanti quello e possa portare a dei progetti poi da sostenere nelle varie scuole. La mia valutazione è che ieri sembrava di essere nel Medioevo. Ieri è andato in onda nel Consiglio regionale un momento di oscurantismo che risale forse al secolo scorso, ma ai primi del secolo scorso, se non più indietro, perché è stato evidente che da parte del centro-destra c'è una concezione dell'affettività, delle relazioni, veramente, non saprei nemmeno come definirla, assolutamente non moderna e non ho capito assolutamente le loro motivazioni di contrarietà. Io ricordo che ieri sera abbiamo avuto la notizia di un ulteriore femminicidio. Sono state uccise altre due donne e c'è una cadenza giornaliera di questo fenomeno veramente impressionante. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale e tutti dovremmo essere trasversalmente uniti nel cercare di trovare i mezzi per contrastarla. Sono d'accordo che il centro-destra ha fatto questo importante stanziamento di 15 milioni di euro va benissimo, non sono certo contraria, mi fa piacere, ma non capisco la loro contrarietà a insegnare l'educazione sessuale e l'affettività nelle scuole. Presentato il libro Una bella pagina di storia, la lotta contro i fanghi rossi di Scarlino 1971-1988 di Flavio Agresti, che ripercorre le vicende della prima battaglia ambientalista in Italia. Una bella pagina di storia che ci racconta come ormai, tanti anni fa, era possibile saper tenere insieme l'ambiente e lo sviluppo. Non era scontato. In quel momento c'era chi pensava che la fabbrica della Montedison andasse chiusa e c'era chi invece, con impegno, pazienza, dedizione, come Flavio Agresti, è riuscito a convincere l'opinione pubblica che si potesse tenere insieme un territorio da far sviluppare, una fabbrica da far crescere rispetto dell'ambiente. Ci troviamo di fronte a un progetto della società Montedison che prevedeva, producendo biossido di titanio, di scaricare a mare, in una zona compresa fra la Corsica, la Gorgone e la Capraia, 3.000 tonnellate al giorno di sostanze acidoferrosi che macchiavano il mare di rosso, da qui la denominazione fanghi rossi di Scarlina. La vivemmo come uno schiaffo in faccia alla Toscana e ci attivammo contro questo progetto, inizialmente inibendo alla fabbrica la possibilità di iniziare la produzione, fino a quando l'azienda non si fosse impegnata a dotarla di idonei impianti di depurazione. A questa nostra battaglia, attorno alla quale eravamo riusciti per la prima volta attorno a un problema ecologico, a costruire un largo movimento di lotta, rispose il Ministero della Marina Mercantile autorizzando lo scarico a mare. Il sistema di alleanze che avevamo costruito fino a quel punto ne subì il contracolpo. Fummo naturalmente costretti a nostra volta a rilasciare l'autorizzazione e l'attivazione della fabbrica, però proponendoci di portare avanti la battaglia per l'abbattimento del carico inquinante di questa produzione industriale. Abbiamo raggiunto risultati importanti perché dimostrammo che queste sostanze, contrariamente a quello che diceva l'azienda, il mare lo inquinavano davvero. Grazie a tutti.